Non scattare Andrea, anche perché la vicinanza è una delle cose che ci è più mancata in questo andamento, quasi durante, ma il fatto che la musica ci ha accompagnato con la melodia durante l'estate, nelle prove all'aberto e durante tutte le attività che siete comunque riusciti a svolgere con tenaci impegno, portando da altri corsi, mettendoci veramente tanta passione. Pensate già solo all'organizzazione di questa sera, al controllo e all'attenzione che hanno messo per permetterci di svolgere questo concerto in completa sicurezza, è la stessa attenzione che mettono in tutte le volte che lo sono andato a fare in modo. Quindi lo sforzo è stato tantissimo. Davvero grazie a te, ringrazio a te come Presidente per ringraziare ognuno sicuramente di l'uno. Ringrazio il consigliere rieletto Paolo Bassi, lui è il consigliere in buon dal Fortuna di Asti, ma in realtà lui vive a Porta Comano Speziale, è un portare marese, è sempre qua con noi, condivide spesso le nostre attività, tante volte ci confrontiamo, infatti lo ringrazio, ne ho in rieletto perché solo sabato scorso c'è stata l'elezione del consiglio provinciale che non è fatto dai cittadini, ma è fatto dalle persone che dalle comuni. Due o tre informazioni, se avete bisogno alzatevi e ci sono le persone con i giubbetti fluorescenti che vi danno indicazioni, vanno un'altra uscita. Non siamo in troppissimi, comunque c'è un'uscita di sicurezza, una dietro il palco e il portone all'ingresso. Se avete bisogno appunto potete alzarvi e chiedere direttamente alle persone, vi chiediamo il più possibile di star seduti, non ci sarà una pausa del concetto, quindi sarà tutto filato fino alla fine. e niente, vi auguro a voi di vostri cari, alle vostre famiglie, un felice, gioioso e santo Natale, sperando nel 2022 di ripetere tanti concetti, magari qualche di più, e perché non la prossima Natale potremo fare una cosa non più distanziati con le mascherine, ma stando di più che si possiede. Grazie davvero, grazie a voi. 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 A chi, tipo, non chiamare? Ah, non la vedevamo? Questi di tutti discorsi, non la vedevamo. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Prima di fare una battuta, che scatto è di me. È stata una discussione che ha girato un pochettino. lei mi fa. Poi, alla fine, quello che vi avete consigliato, mi piacciono meno, ma sono sicuramente più comode, perché quest'estate, con le scarpe, da che mettetevi la battuta, da figa, poi se le dovete tornare, perché stando tutto questo tempo in piedi di leggere il concerto, comunque non è come star seduti in un locale. Quindi, buona ringrazio. Grazie. Grazie.